13.57 arrivo a Tombolo per la Supercoppa ancora una volta siamo qua tra l'altro diciamolo prima della partita che Francesco ha detto che qualora giocasse oggi le papere sono garantite vabbè quello è ovvio, quello è il rituale, tutto il gioco, quello che dico devo cercare di aiutare gli avversari per stimolare i miei compagni a fare meglio e allora ragazzi eccoci finalmente giunti all'interno del Belbote Arena per seguire assieme questa Supercoppa la semifinale, più nello specifico contro il Baita Saviabona formazione tra l'altro che vi ha replicato nei risultati 56 punti anche per loro in campionato, vinto tra l'altro appunto dalla squadra che quest'oggi è disegnata come locale un punto in più rispetto al Fuzz al Città Murata, un po' come voi col Pernumia 56-55, 18 vittorie per entrambe le compagini, due pareggi e due sconfitte insomma siete praticamente lì alla pari, avete un vantaggio a livello di differenza rete almeno stando alle statistiche, però è una formazione sicuramente ostica seppur ha perso anche lei in Final Four per 6-4 contro l'Arzignano che poi ha vinto siete spaventati da questa partita o pensi che sarà più facile rispetto all'ultimo match qui proprio contro il Montello sicuramente sarà una partita ostica perché come detto sono arrivati i primi campionato quindi se lo saranno meritati sicuramente e siamo comunque motivati a sfidare per la prima volta poi vogliamo concludere in bellezza il nostro percorso di questa stagione e quindi ci teniamo a vincere a fare bella figura oggi non avete la testa già in vacanza? no, vabbè in vacanza no anche se sicuramente incide il fatto che da un mese alla fine che non abbiamo competizioni realmente serie e quindi secondo me questo un po' può incidere però questa è la parte difficile di metterci la testa anche quando è un po' più difficile restare concentrati situazione capocannonieri per il baita Saviabona troviamo Mauro Magon 32 le realizzazioni per lui in questo campionato che si vanno a sommare con gli 8 centri in coppa per un complessivo di 40 dalla parte opposta invece c'è Raffaele Garofalo mi dispiace Fabio non ci sei più tu infatti il bomber con la 10 ti ha superato di una rete ha fatto più gol di te in coppa seppur tu ne hai fatto uno in più in campionato 23 a 22 per te ma poco importa oggi l'obiettivo sarà anche per te raggiungere 30 gol e provare chissà ad agganciare e eventualmente superare Raffaele Garofalo si si può dire che oggi mi disinteresserò completamente della partita e sfiderò solamente Raffaele a chi fa più gol e vediamo di superarlo comunque l'obiettivo 30 gol è un obiettivo ambito anche da te cioè ti manca un gol per arrivarci sforzati oggi vabbè si è una piccola soddisfazione personale dai cerchiamo di arrivarci non è una cosa così tanto necessaria è una piccola soddisfazione sì che mi fa piacere comunque e ora andiamo dentro con la prima ed unica rubrica di quest'oggi hashtag esultanza infatti deciderete sempre voi l'esultanza che farà l'uomo alla mia sinistra allora andiamo a vedere quali sono le proposte arrivate per lui quest'oggi Massimiliano Tomaselli 6018 ti dice yoga di Holland ah carina questo si può anche fare in gruppo secondo me ci può stare che tutti si mettono in cerchio no comunque davanti alla telecamera a fare yoga Yassin Yemmali o Gemmali ti dice fai l'esultanza di Simone Crispo vabbè anche questa è bella sarebbe bella anche dedicargliela la considero non la escludo Juan Carlos 391391 invece ti propone di Leao il surf mi piace il messaggio vabbè l'esultanza non è che mi faccia impazzire mi piace l'emoji lo stile di vita però l'esultanza in sé non mi fa impazzire ed infine ultima richiesta di giornata da parte di Mattia Favaro che ti dice per la prossima esultanza puoi fare You Can See Me di John Cena questa esultanza già me l'avevano proposta e mi sa che anche era arrivata non so per al ballottaggio finale mi sembra e allora noi adesso andiamo a ricapitolare le opzioni che ci sono arrivate quest'oggi al fine di identificare quale sarà la prossima esultanza di Fabio Di Mauro e se ci sarà un'esultanza opzione A yoga di Holland opzione B esultanza di Simone Crispo opzione C surf di Leao opzione D You Can See Me di John Cena scelta come sempre difficile ho fatto già intuire la prima che escludo che è quella di Leao e l'altra che escludo è You Can See Me di John Cena no per la seconda volta l'altra volta era arrivata in finale questa volta non gli concedi questa chance no una perché mi piace quella di Holland lo yoga e l'altra per Simone Crispo non posso abbandonarla così subito anzi cioè ci sto pensando effettivamente di farla e allora resta l'opzione A come dicevi tu l'esultanza di Holland o l'opzione B quella di Simone Crispo quale accendiamo tra le due? non deve essere l'ultima partita la mescolta finale secondo me è quella che è più divertente da vedere e ti dico yoga di Holland l'accendiamo? l'accendiamo dai l'accendiamo questa benvenuti al Belbote Arena per seguire assieme questa semifinale di Supercoppa Italia del Veneto Baita Saviabona versus Rovigo una partita che decreterà quale delle due formazioni potrà passare alla fase successiva e alla finale mentre ci sono le premiazioni quest'oggi infatti premiazione anche per le due squadre che hanno vinto il campionato la squadra di mister Luciano Sebastiano girone B serie D appunto di Fuzza al prima in graduatoria così come il Rovigo girone D serie D del Veneto e vediamo la coppa alzata da Capitan Chinaia ambita per tutta la stagione mentre ora ci possiamo definitivamente immergere all'interno di questo match un match delicato oltre che difficile perché le due squadre non disputano un incontro ufficiale da circa un mese quindi oggi ci sarà da fare anche un resoconto generale con la propria condizione fisica adesso andiamo a leggere le formazioni che scenderanno in campo per il Baita c'è Borotto in porta difeso da Carlotto laterale destro Sucson Korn a sinistra Marco Zeppe come pivot De Pergola dalla parte opposta per i ragazzi di mister Gonzato invece troviamo Pasello in porta difeso da Morello laterale destro Fabio Di Mauro a sinistra Mariotto e come pivot Garofalo è tutto pronto per questa semifinale attesissima per scoprire quale squadra accederà alla finale ultimi esercizi di riscaldamento mentre si attende il fischio del direttore di gara che arriva ora con lo scarico all'indietro di Raffaele Garofalo per il pocio Marco Zeppa all'indietro per Carlotto cerca Sucson Korn poi il destro del 24 ci ha provato subito De Pergola ma la palla si perde a lato Pasello un po' corto FDM ci arriva lo stesso e fa fuori i due uomini avanza il 9 che ha campo poi va da Garofalo vuole la palla ancora Fabio Di Mauro Raffaele Garofalo forse gliela dà con un tempo di ritardo interviene Borotto fallo laterale con FDM che va al centro ancora Carlotto allontana poi un po' un flipper recupera Mariotto il pocio al centro deviazione Garofalo è rovesciata la palla sopra la traversa ci ha provato subito Raffa a fare l'Euro goal ma il punteggio ancora 0-0 quando ne sono passati 4 intanto Marco Zeppa in venta sempre perde Pergola visavi con Pasello tira para l'1 poi ancora Pise a dirgli di no arriva anche Morello a dare una mano alla retroguardia dell'Eurovigo poi Mariotto addosso al numero 10 del baita dunque rimesse in gioco in favore dell'Eurovigo Carlotto per Suxomkorn che va in profondità direzione Marco Zeppa l'uscita di Pasello provvidenziale a depositare la sfera in fallo laterale ancora il 10 per Suxomkorn il dialogo ancora tra il 22 e il 10 poi la palla sbagliata proprio del 22 Raffaele Garofalo riconquista fallo da parte del baita Saviabona e adesso calcio di punizione quando c'è Ezechiel Morello sul punto di battuta Borotto dispone la barriera da parte il 14 la parata dell'1 ma sarà calcio d'angolo ancora Pasello cerca una soluzione che trova in FDM il dialogo con Mariotto che si chiude ancora FDM passa in mezzo a due uomini poi in mezzo a tre scatenato Fabio Di Mauro che fa fuori ancora Marco Zeppa attenzione vis-a-vis con Borotto messo giù si avvicina il direttore di gara e estrae il cartellino giallo per Alex De Pergola che ferma un'azione interessantissima una giocata monster da parte però del numero 9 dell'Eurovigo che si è messo in proprio e ha deciso di farli fuori tutti uno a uno rivediamo l'azione per bene il dialogo con Ayrton Mariotto poi fa fuori Sucson Korn in seguito proprio De Pergola e anche Marco Zeppa si defila un po' ma nonostante questo riesce a raggiungere la sfera poi le finte di corpo non tocca neanche la palla ad eludere proprio l'intervento del 10 del baita infine insomma fallo da dietro plateale lo vede il direttore di gara che estrae il primo cartellino giallo di giornata dunque calcio di punizione da una mattonella interessante per il loro Vigo sul punto di battuta c'è proprio Fabio Di Mauro mentre Borotto dispone la barriera parte il 9 esterno della rete vicino al vantaggio FDM ma non riesce a trovare la porta Morello sbaglia il controllo ma riesce comunque a raggiungere la sfera poi verticale per FDM che è chiuso da due uomini allora vada Mariotto che prolunga sempre per il 9 che calcia lontana Marco Zeppa poi Ayrton Mariotto ancora il 10 a sventare la minaccia in fallo laterale poi Sucson Corna di fatto addosso al proprio allenatore Sebastiano Luciano intervento falloso ma in questo caso non fischiato dal direttore di gara intanto Garofalo suole va verso il centro serve per il pocio che calcia con la punta e ancora una volta l'uno del baita Saviabona a dire di no Mariotto dentro per FDM lo scambio sempre con Ayrton che libera all'indietro il 14 e manco a dirlo ancora una volta neutralizza tutto l'estremo difensore del baita mentre c'è il cambio fuori Fabio Di Mauro al suo posto dentro Alino Loato un buon avvio del primo tempo in ogni caso sia per FDM che per il loro vigo in generale calcio di punizione con Sherrude che parte la ribattuta poi ancora Sherr e ancora una volta Borotto intanto attenzione viene ravvisato un fallo da parte di Guaraldo ed è già il sesto e allora tiro libero per il baita Saviabona ma cerchiamo di capire quello che è accaduto con Sherr che è andato all'indietro dal 3 che trattiene un po' il 16 della squadra designata come locale quest'oggi dunque tiro libero con Tommasini che sfiderà Pasello quando siamo al ventunesimo minuto parte il 16 la parata di Pise poi sulla respinta altissimo arriva il gol del numero 7 Nicolò altissimo 8 in stagione ne ha fatti 5 in campionato questo è il suo terzo in coppa e al ventunesimo la sblocca sulla respinta di Mirko Pasello che era riuscito a neutralizzare il capitano del baita Saviabona nulla però potuto sul tiro raso terra l'aveva anche sfiorata e per poco non riesce a deviare la palla in un'altra zona di campo ma non è bastato dunque si riparte col punteggio di 1 a 0 per la squadra di Sebastiano Luciano intanto attenzione Barotto che riconquista su Chinaia e vada De Pergola anticipo secco di Pasello che sventa eventuali pericoli per la sua porta Guaraldo Chinaia all'indietro un po' troppo ci arriva comunque Scherch che ora prova ad avanzare il 7 in buca per il 17 ma c'è l'altra diviazione quella del 17 locale che per poco non trova l'autorete Nicolás Zeppa si salva ancora una volta Barotto mentre entra Fabio Di Mauro al posto proprio di Alino Loato lancio lungo del pocio Garofalo non controlla attenzione a Chahid che ora ha tempo e spazio per girarsi e puntare allarga poi il gioco a sinistra per Suxomkorn che va al centro e arriva il raddoppio di Marco Zeppa sull'assist al bacio da parte di Cancciai Suxomkorn non fallisce il 10 del baita e adesso è più 2 per la squadra di mister Luciano Sebastiano mentre quella di Gonzato è costretta a rincorrere una partita maledettamente difficile anche sfortunata nelle occasioni ha trovato un super Borotto che si è opposto in più riprese e dunque adesso c'è un'impresa da svolgere mentre il tacco di Suxomkorn per poco non trova terreno fertile in un potenziale 3 a 0 Garofalo parte ma viene fermato sempre da Marco Zeppa che dialoga col 22 ancora il 10 allarga a destra per il 9 che calcia Pasello para Morello allontana FDM prova a ripartire e fa fuori Chahid poi prova a far fuori anche Lotto e ci riesce fa fuori anche il portiere poi a terra attenzione il direttore di gara si avvicina con Fabio che dice lo devo battere da qui ma l'arbitro dice non è fallo l'hai toccata di mano quindi sarà attenzione tiro libero clamorosamente perché insomma è ancora sesto fallo cerchiamo di capire quello che è successo l'avanzata di FDM che fa fuori anche Carlotto dopo di che anche Borotto toccato all'altezza dello stinco sinistro si lascia andare ma sicuramente l'infrazione di gioco c'è perché ostacola la proiezione di Fabio nei riguardi della porta avversaria insomma decisione abbastanza ambigua da parte del direttore di gara sarà tiro libero si presenta Sucson Korn col destro incrocia la perfezione Pasello non può nulla adesso è triplo vantaggio per il baita Saviabona col quattordicesimo centro in stagione da parte di Cancciai Sucson Korn e adesso diventa veramente impossibile quasi per il loro Vigo che deve sperare almeno in una rete in quest'ultimo minuto di recupero concesso o meglio rimasto di due concessi da parte del direttore di gara allora seguiamo Danny Fabio che va all'indietro per Ezechiel Morello le finte del Pocio poi calcio a deviazione sarà ancora calcio d'angolo insiste adesso la squadra di Mister Gonzato l'undici al centro per Raffaele Garofalo che la riapre o quantomeno da un barlume di speranza in vista della seconda frazione di gioco 31 in stagione per il 10 del loro Vigo rivediamo ora bene anche il nostro replay bravissimo Danny Fabio a giocare una palla perfetta che passa sotto le gambe del 9 il 10 col Mancino perfora un Borotto che non ha sbagliato praticamente nulla e questa rete dà speranza a Fabio e compagni in vista della ripresa perché ci sono altri 30 da giocare è vero ci sono due gol da recuperare ma nulla è possibile per Fabio e compagni e si va a riposo allora col punteggio di 3-1 in favore del Baita Saviabona un Rovigo che ha sciupato tanto mentre i locali hanno capitalizzato al meglio ma ora andiamo col secondo tempo e dunque eccoci nuovamente assieme dal Belbot Arena per seguire la seconda frazione di gioco tra Baita Saviabona e Rovigo la squadra di Mr. Gonzato è chiamata a una relazione importante intanto c'è l'introduzione del portiere Francesco Di Mauro che potrebbe fungere anche come portiere di movimento un'introduzione tattica interessante soprattutto a livello offensivo vediamo come si comporterà il portiere quest'oggi con la 12 la palla in profondità dell'otto neutralizzata proprio da FDM 2.0 che va da Garofalo da questi FDM che suola nuovamente per il 10 il suo destro Borotto Parade Pergola riparte con l'aiuto di Zeppa da questi a Sucson Korn che vuole nuovamente il 24 chiude Mariotto riparte adesso la squadra di Mr. Gonzato formazioni spaccate in due nonostante il match sia iniziato letteralmente da 30 secondi e allora siccome il 22 per il 24 che prova ad andare sempre da il numero 8 Carlotto che ora va da Marco Zeppa sbaglia la verticale ancora Sucson Korn scorta l'uscita del pallone Ayrton Mariotto e intanto rivediamo il replay la verticale di Garofalo per Fabio Di Mauro che con la sua la col terzo occhio gliela dà nuovamente non riesce però a eludere l'intervento del numero 1 del baita Saviabona e si riparte con Francesco che si spinge subito in avanti Garofalo il pocio il suo destro para l'uno che ora cerca direttamente la porta perché Francesco è fuori dai pali ma non troppo era rientrato il tentativo comunque del portiere dei locali si perde a lato in profondità Sucson Korn perde pergola il suo destro Francesco Di Mauro in due tempi la spegne e fa ripartire Garofalo che va da Ayrton Mariotto che si gira tempo e spazio il giocatore con l'auto che calcia Borotto para ma non è finita insiste Morello che va da FDM ne ha due addosso il 9 del Rovigo che deve trovare una soluzione alternativa che porta il nome del pocio che calcia Sucson Korn si immola e poi Marco Zepp allontana ancora la tiene viva però gli Eze Mariotto dentro per Garofalo che si porta a casa un fallo laterale sta insistendo il Rovigo ma si chiude molto bene la formazione di Mister Luciano Fabio Di Mauro servito da Mariotto suola su altissimo poi torna da Ayrton che prova ad accentrarsi rischia un po' ma riesce comunque a raggiungere Ezequiel Morello che cerca Garofalo l'ultimo tocco dovrebbe essere però di Carlotto dunque rimesso in gioco in favore del Rovigo Mariotto dentro per il pocio FDM suola ancora per Ayrton che cambia campo e va da Eze che sbaglia però la verticale per Garofalo riparte Carlotto che suola verso il centro poi va da Sucson Korn che torna da Carlotto il miracolo di Francesco Di Mauro che con la mano di richiamo riesce a sventare la minaccia rivediamo anche il nostro replay Sucson Korn per il giocatore con la 8 apre le ali FDM 2.0 a dire di no al baita Saviabona e a tenere ancora a galla un Rovigo che deve avere le forze psicologiche per ribaltare il match e prova a farlo ora con Francesco Di Mauro che va dal fratello la finta di Fabio che va verso il centro il mancino ribattuto ancora una volta dalla formazione di Mister Luciano che si riposiziona ora con Sucson Korn che affida il possesso altissimo recupera FDM il dialogo con Scher e ancora Fabio Di Mauro sull'esterno messo giù dal 22 si avvicina il direttore di gara che strae il cartellino giallo per Cancciai su Sucson Korn l'autore della terza rete per il baita Saviabona ora Borotto che va d'altissimo giro palla a direzione Carlotto che prova in verticale ancora Sucson Korn capisce tutto per FDM che va da Garofalo ancora il 10 a cercare al centro Fabio che si lamenta un po' forse avrebbe voluto prima la palla in ogni caso calcio d'angolo per il loro Vigo ma siamo già col possesso ora invece da parte di De Pergola fallo su Ezequiel Morello attenzione fischia il direttore di gara che si avvicina al 24 che è già monito estrae il secondo cartellino giallo dunque baita Saviabona in uno e meno per due minuti a meno che una delle due formazioni non metta a segno una rete a ristabilire le gerarchie numeriche seguiamo Francesco Di Mauro in questo 5 contro 4 che deve assolutamente sfruttare la formazione di mister Gonzato ancora il pocio a cercare di stanare la difesa avversaria il dialogo con Scher il destro del 14 Murato ancora Garofalo poi l'indietro Perez il tocco sempre per Scherr7 e Scherrud che ora può rimpostare e lo fa sempre col 14 Scherrud allarga per FDM il suo sinistro alto ci sta provando in tutti i modi il loro Vigo ma non trova fortuna così come nel primo tempo Francesco Di Mauro Morello Scherrud si chiude benissimo il baita ci prova il pocio altissima e scorre il tempo sul cronometro manca sempre meno a ristabilire la parità numerica con Scherrud che pensa per un attimo al tiro poi serve per il pocio che vorrebbe un tocco di mano che non c'è secondo il direttore di gara intanto arrivano anche le proteste il pocio furioso a lottare con tutti lo sa anche Eros Guaraldo che prova a calmare gli animi per una partita che si sta facendo tremendamente nervosa riconquista FDM che va da Scherrud e si allarga il pocio lo vede il 7 ancora il 14 dentro Fabio Di Mauro non ci arriva per un soffio riconquista Borotto Scherrud Ezechiel Morello cerca ancora una volta il tiro e ancora una volta l'uno a dirgli di no Mariotto da calcio d'angolo all'indietro per il 14 che calcia con deviazione ancora Borotto sensazionale MVP di giornata almeno fino ad ora Mariotto al centro allontana ancora l'uno della squadra designata come locale calcio d'angolo per il loro Vigo con Mariotto che va a pescare dalle retrovie il pocio che calcia para Borotto poi la sfera è ancora buona per Garofalo ma se la va a riprendere proprio Chahid che forse subisce anche un intervento falloso l'arbitro fa proseguire ma Ezechiel Morello mette la palla fuori Ezechiel Morello maledettamente nervoso lo vede mister Gonzato che chiama ora il cambio fuori il 14 al suo posto dentro Fabio Di Mauro perché serve tranquillità e testa cosa da non perdere allora vediamo Chahid che va per altissimo che gioca al centro per il 22 che fallisce clamorosamente l'appuntamento con la sua doppietta riparte FDM 2.0 che va da Fabio che non controlla altissimo rischia l'autorete un po' un flipper poi la palla si perde nei meandri del fallo laterale Francesco Di Mauro riparte Sherroud all'indietro per Mariotto CR7 Fabio Di Mauro la gioca al centro allontana Chahid poi Mariotto la prova palla però ampiamente alato ma c'è deviazione Borotto corto per altissimo che sventaglia la palla in avanti per Sucsonkorn sponda direzione Chahid il suo sinistro respinge Sherroud poi forse un fallo non secondo il direttore di gara allora riparte Mariotto che va da CR7 che fa fuori un uomo poi allarga il gioco per Garofalo il suo destro ipnotizzato ancora una volta dall'uno bianco celeste poi rimesse in gioco in favore proprio dell'Orovigo Sherroud tocco corto per Mariotto che torna da Sher ancora Ayrton allarga il gioco a destra per Francesco Di Mauro FDM ne ha due addosso allora torna dal proprio portiere di movimento che va dall'otto sempre per il 12 FDM giropalla dell'Orovigo a cercare spazi sbaglia tutto adesso Francesco Di Mauro su Xom Korn cerca la porta Mariotto interviene FDM giocata su altissimo strepitosa ma è sempre lì il 9 che allora concede per Mariotto che va al sinistro deviazione del set avversario ancora calcio d'angolo Fabio Di Mauro suola all'indietro per Sherwood che va sempre da FDM giocatore con la 9 a cercare spazi dunque Ayrton Mariotto cerca l'imbucata allontana Nicolas Zeppa e poi forse un fallo su Ayrton Mariotto non secondo l'arbitro Chahid confusione il portiere è fuori cerca la porta il 9 di pochissimo lato e per poco non arriva il colpo del K.O Garofalo con un passaggio dischioso che però giunge a Fabio che carica il sinistro in due addirittura a negare l'accesso del pallone verso la porta di Borotto calcio d'angolo con Sher che va da FDM il blocco di Mariotto sguscia via allora Fabio che crossa al centro per Sher che non ci arriva Sucson Korn prova a ripulire e cerca di portarsi a casa qualcosa ce la fa ora con questa rimessa in gioco in favore per i suoi ma riparte già il loro Vigo il forcing di Mariotto dunque Sher cambia gioco direzione Francesco Di Mauro che va dal fratello al centro Chahid arriva all'autorete sfortunatissima da parte di Shaqib Shahid che riapre i giochi quando siamo al cinquantasettesimo minuto rivediamo qui quello che è accaduto bravo Francesco ad andare da Fabio che ha cercato in quella zona dove generalmente c'è Raffaele Garofalo uno dei suoi non lo ha trovato poco in porta ha trovato Shahid che sfortunatamente deposita in porta e riapre una partita che sembrava chiusa fino a pochi istanti fa ma torniamo in campo perché c'è sempre il loro Vigo proiettato in avanti e vediamo come si comporterà con Mariotto Sherrude Garofalo si chiude benissimo ora il baita Saviabona a occupare tutte le zone sensibili di campo e allora Sher cambia gioco e torna sempre a destra per Francesco Di Mauro FDM torna sempre da Francesco il destro Murato attenzione altissimo il suo destro il 12 spaccata a negare che il pallone arrivi in porta insiste il loro Vigo non c'è un attimo di respiro Ayrton Mariotto Eman Sherrude Garofalo restituisce al 7 che sfoga a destra sempre dove c'è Francesco Di Mauro che pensa per un attimo al tiro che non prova e allora ancora a sciare 7 Sherrude per Francesco Di Mauro il suo destro incrociare è una sentenza e la pareggia il loro Vigo l'esultanza di FDM 2.0 che dice sto cucinando seconda rete in stagione per lui che dopo il pernumia lo rifà sempre in coppa questa volta ancora più bello questa volta ancora più importante perché la rete del tre pari vediamo il destro a incrociare c'è anche il tocco da parte di Nicolás Zeppa che comunque non influenza la traiettoria del tiro che sarebbe comunque finito in porta Raffaele Garofalo in ogni caso era sul secondo palo per evitare qualsiasi altro dubbio intanto riconquista Fabio che prova ad avanzare messo giù da Nicolás Zeppa che spende un fallo importantissimo perché anche il Baita ha introdotto il portiere di movimento e entrambe le squadre vogliono vincere questa partita e allora Garofalo dentro per Fabio Di Mare il suo sinistro alato di pochissimo non riesce a centrare lo specchio della porta e non riesce a portare avanti i suoi per la prima volta nella partita la suolata del nove e poi il suo sinistro addirittura sporcato da Nicolás Zeppa che con la suola altera leggermente la traiettoria su cui probabilmente sarebbe arrivato per l'ennesima volta Borotto proprio il numero uno in avanti a cercare altissimo buca l'intervento Mario 8 attenzione al sette che calcia para Francesco ancora altissimo dentro per Marco Zeppa e riporta nuovamente in vantaggio il baita Saviabona il giocatore che ha messo a segno la seconda marcatura di giornata Marco Zeppa doppietta personale e questo è un gol che pesa come un macigno perché dopo l'impresa del loro Vigo arriva una nuova sentenza da parte dei ragazzi di Mister Luciano complice anche una lettura non felice da parte di Mario 8 e poi anche di Scherr entrambi a guardare il pallone e non l'unico uomo solo al centro dell'aria con la 10 che ha depositato il pallone valevole il nuovo vantaggio per i locali allora seguiamo Francesco Di Mauro che va da Mario 8 FDM restituisce subito da Ayrton che cerca uno spiraglio di luce per giocare il pallone Francesco Di Mauro scerco il tacco sbaglia tutto attenzione Carlo 8 il suo destro di pochissimo lato e adesso stava per arrivare addirittura il colpo del 5 a 3 ma il loro Vigo è ancora vivo e restano gli ultimi 60 secondi di recupero e di speranza sbaglia tutto Garofalo la porta è sguarnita la cerca Marco Zeppa e la trova il punto esclamativo da parte del numero 10 del baita Saviabona a chiudere definitivamente la partita i giochi e a portare i suoi alla finale che giocheranno domani contro l'Arzignano e sono 17 per Marco Zeppa rivediamo intanto il nostro replay la trama di gioco fallita da parte di Raffaele Garofalo c'è stata anche la deviazione di Sucson Korn che ha favorito il 10 della propria squadra per centrare lo specchio della porta e mettere un'ipoteca su questa sfida quando si riprende a giocare mancano meno di 30 secondi al termine serve l'impresa del Fuzz l'FDM al centro per Garofalo di testa non ci arriva ed è game over finisce qui la stagione del loro Vigo 5 a 3 in favore del baita Saviabona la disperazione di Francesco che è stato uno degli artefici della remuntada del loro Vigo a due minuti dal termine si era sul tre pari poi dopo sappiamo tutti come è andata intanto il regalo da parte dei ragazzi a Mister Gonzato come ringraziamento della bellissima stagione svolta assieme che sicuramente non va ad essere inquinata dal match perso quest'oggi perché il percorso è stato veramente storico l'abbraccio del Mister a tutti i ragazzi io vi ringrazio per averci seguito quest'anno andiamo nel post gara per l'ultima volta e allora ragazzi eccoci nel post partita anche con il dirigente nonché addetto stampa Daniel Corrain che è stato colui che tra l'altro mi ha fornito le distinte lungo tutto l'anno per fare le telecronache allora lo ringraziamo e gli chiediamo anche qual è stato secondo lui l'epilogo di questa stagione nonostante la sconfitta quest'oggi non va a discapito di quello che è stato il bellissimo campionato le bellissime performance in Coppa e quanto si è riuscito a ottenere questa stagione con il loro Vigo in generale prima di tutto ci tengo a ringraziare veramente tutti a cominciare dal Mister da tutto lo staff tecnico dai ragazzi che grazie abbiamo coronato un sogno di essere promossi in Serie C2 ringrazio anche te insomma perché abbiamo avuto la fortuna di averti che abbiamo sempre voluto di vedere questa nostra cavalcata dall'inizio alla fine dispiace per oggi chiudiamo nel peggiore di modi sarebbe stato enorme piacere giocare la finale domani dispiace perché sotto i tre gol essere riusciti a recuperare e dopo nel finale essere caduti come nella Coppa Avento col Montello dispiace dispiace che i ragazzi dopo il primo tempo difficili ne secondano meritato alla fine comunque tralasciando il risultato il triste epilogo c'è da dire che la Supercoppa per quanto possa dispiacere non è inficiato sul passaggio in Serie C2 dell'Eurovigo che era l'obiettivo principale e quindi qual è l'ambizione di questa squadra dove punta ad arrivare l'anno prossimo in C2 adesso a partire dal lunedì diciamo che ci godiamo la domenica cominceremo a pianificare il futuro adesso non possiamo fare voli pindarici visto che ci misureremo sicuramente con realtà già più affermate e più abituate e più esperte rispetto a noi in una serie nuova per noi quindi peccheremo un po' di inesperienza sicuramente cercheremo ovviamente di dare il meglio e cercare di restare almeno in C2 se dirò qualcosa di più meglio ne saremo tutti contenti e orgogliosi e infine ultima cosa da dirigente all'interno dello spogliato di Eurovigo com'è stato il clima quest'anno da fuori si vedeva comunque un bel vedere ma da dentro com'era sai uno dei righetti principali per vincere un campionato è riuscire a creare un gruppo e i ragazzi in questo sono stati veramente bravissimi meritano i nostri complimenti le aspettative per questa squadra erano alte all'inizio stagione e mantenerle non è mai facile quindi loro in primis col gruppo con l'alchimia che sono usciti a creare tra di loro hanno dato quel surplus in più anche nei momenti di difficoltà soprattutto dopo la partita di Toreglia che abbiamo più volte detto ma da lì in poi sono compattati sono riusciti a liberarsi dei pesi diciamo e portare a casa il risultato in pieno solo e allora ragazzi eccoci giunti al termine di questa sfida e di questa stagione visto il risultato 5 a 3 in favore del baita Saviabona che è spugnato così il loro Vigo nonostante ecco una seconda frazione super per i ragazzi di mister Gonzato che hanno agguantato il risultato nei minuti finali poi è avuto la palla del 4 a 3 non si è riuscita a capitalizzarla e poco dopo è stata una bella partita molto equilibrata alla fine si è decisata sugli episodi ma c'è da fare i complimenti secondo me sia alla nostra squadra sia agli avversari perché è stata davvero una bella partita magari fossero state tutte così ci siamo divertiti e comunque secondo me usciamo a testa alta ed è stato un buon finale secondo me per quanto riguarda la nostra stagione nel complesso si è andato a fare la doccia quindi non l'abbiamo potuto sentire però Francesco Di Mauro oggi quando è entrato ha dato il manforte alla squadra sicuramente un game changer nel secondo tempo che è stato portiere di movimento ed è stato sfruttato benissimo ha trovato lui lasciando questo tu hai vinto il duello dei cartellini gialli hai fatto munire tutta l'altra squadra quest'oggi però niente gol niente 30 si forse oggi sono stato più a disposizione della squadra facendo munire la squadra avversaria comunque si dai bene per Frec è riuscito a segnare ha fatto bene il portiere di movimento meglio anche di quanto me l'aspettassi quindi bravo lui anche se siamo dispiaciuti per la partita per il risultato alla fine siamo felici per com'è andata la stagione nel complesso e possiamo essere soddisfatti comunque li ho portato a casa il campionato è stata una bella stagione eh sì Fabio purtroppo una bellissima stagione che si conclude quest'oggi ma noi ci teniamo a ringraziare tutta la società dell'Eurovigo il presidente il vicepresidente il direttore sportivo l'allenatore insomma tutti coloro che sono dietro le quinte e che ci hanno dato modo comunque di sviluppare il nostro lavoro al meglio quest'anno e di portarvi un contenuto unico con una vittoria gloriosa quella del campionato la prima nella storia dei Meringas l'abbiamo sempre detto nell'arco di questa stagione lo ribadiamo perché ecco qualcosa che non era mai avvenuto e ci siamo riusciti assieme all'Eurovigo stesso insomma una soddisfazione anche per te sì sicuramente è stata una grande soddisfazione quella del campionato era il nostro obiettivo che ci siamo posti sin dall'inizio e quindi siamo felicissimi anche io mi accudo ovviamente ai tuoi ringraziamenti a tutta la società e vedremo cosa faremo la prossima stagione consigliateci anche nei commenti magari le vostre squadre non so qualche posto in cui andare e fateci sapere se secondo voi dobbiamo rimanere a l'Eurovigo o andare in un'altra meta fateci sapere arrivati alla fine Fabiè ringraziamo ragazzi per averci seguito in questa splendida stagione di Fuzz noi vi diamo appuntamento al prossimo anno ma nel mentre ci saranno ovviamente altri contenuti contenuti estivi quindi rimanete sintonizzati per scoprire anche quello che bolla in pentola ci sono un paio di novità veramente interessanti che vi andremo a spoilerare a breve diciamo iscrivetevi solite cose no dai basta lo sapete già e allora ragazzi diamo fiducia a Fabio lo sapete già e allora fatelo noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi